La malattia esantematica è una realtà legata quasi sempre all'infanzia e comprende rosolia, il morbillo, ma non dovrebbe comprenderlo perché se Dio vuole dovremmo avere tutti i nostri bambini serenamente vaccinati. Però una patologia esantematica che può lasciare segni sulla pelle c'è, ed è la varicella. La varicella da herpes virus, che anche questa è una patologia che può essere controllata nell'infanzia con la vaccinazione, però se compare può lasciare dei segni sulla pelle. E guardate che il bambino non ha colpa se si tratta, non ha colpa se si tocca, perché comunque è una malattia fastidiosa. Se la lesione è profonda, purtroppo lascerà il buchino e quel buchino rimarrà come un cattivo ricordo.